E salve a tutti youtubers, è qui Kaleco84 e benvenuti su Hide and Shriek. Questo video è un po' particolare, non solo perché la camera è un pochino storta, ma anche perché è stato registrato durante una live. Il signor Vosciente ha accettato di fare questo video con me, mentre lui faceva la live io registravo per appunto questo video. Quindi ci saranno magari un po' di commenti un po' strani, fuori luogo, durante i tagli, durante le cose. Spero che si capisca il più possibile, anche se forse non si capirà tutto. Comunque direi di cominciare con Hide and Shriek. Che cos'è Hide and Shriek? Lo spiegherò. Ora, allora ragazzi, noi siamo... cosa siamo noi? Siamo due maghi, io e Vosciente, in una scuola di magia, nella quale gli studenti non si vedono fra di loro. Probabilmente è per evitare bullismo. Peccato che abbiamo trovato il modo di bullarci lo stesso, terrorizzandoci fra noi la notte nelle aule vuote, mentre cerchiamo di raccattare potenziamenti e magie. In pratica, io e Vosciente dovremo, a vicenda per così dire, trovare degli orb, delle sfere magiche e portarle a un altare. Mentre abbiamo in mano queste sfere magiche, l'avversario è in grado di vederci ed è in grado di spaventarci. Ecco. Ora, tenete presente una cosa, che lui ha visto qualche gameplay, io neanche quello. Esattamente, mi divertirò tantissimo. E che il gioco, praticamente dal riassunto, si poteva dire, siamo invisibili su una mappa e ci dobbiamo spaventare a vicenda. Ok. No, l'obiettivo non è spaventarci. Cioè, sì, l'obiettivo è spaventarci, però... Vabbè. Andiamo, dai. Ma facciamo quelli che vanno. Ok, chi invita chi? Private match, sto facendo un private match, vediamo se riesco a invitare Calecco. Ok, mi inviti, mi inviti, mi inviti. Ecco, t'ho trovato, Calecco. Oh, mi è arrivato un invito dal signor Volscente. Cioè, qua c'è, how to play, io, niente. Ragazzi, tenete presente che questo è tutto jumpscare, cioè, hanno pensato. I giochi che hanno qualche jumpscare hanno successo, perché non facciamo un gioco solo jumpscare? No, no, più che altro hanno detto, facciamo un gioco dove sei tu a fare jumpscare e sicuramente piacerà. L'hanno fatto genio, l'hanno promosso, gli hanno alzato la paga, quello che l'ha pensato. Sì, esattamente. E io che non va bene. Ok. Oh, io sono il blu. Trova gli orb blu. Ok, io, quelli rossi. Ok, si capisce che è una scuola di magia, perché c'è tutto quanto che svolazza. Ok. Col tasto E, static charge. Che cazzo è? Non lo so che sto facendo io, ragazzi, qua. Ok. Allora, bisogna aprire... Ah, forse siamo a imputtanare. Forse bisogna imputtanare. Come Missed? Missed, chi è missato? Ah, left ship, ok. Per posare l'orb, left mouse. Right mouse. Ok. Ok. Ho fatto una cavolata, mi sa? Comunque, ok. Ok. E 10.000 punti. Muoh! Dove cazzo è l'altare? Devi trovarlo. Ma l'ho trovato, ma poi dopo di... Si sposta l'altare. Dov'è che sei, goal? Non lo so dov'è. Focus, focus. Aha! 30.000! Uh, quanti punti che sto facendo, ragazzo. Io non lo so, ma che cazzo... Signori! Oddio. Ah, quindi si teletrasporta l'altare a un'altra parte. Ok, ho capito, ho capito. Io non so dov'è niente. No! Hehehehe. Ok. Dov'è il mio altare? Dov'è il mio altare? Ok. No, ho sprecato una cazzata. Che cazzo sono? Che cazzo è sta cosa qua? Che non si capisce. Ho sprecato... Vabbè, va. Amminchia. Ok. Che diavolo... vol'è il mio altare? Non lo vedo. No. Ho visto una sfera rossa cadere per terra. Poco fa. Erituol? Oh mio. Non so assolutamente dove sei il mio altare. E mi... Ok. Cioè il tuo... L'ho visto cento volte, poi. Aha. Vaffanculo. Merda sei. Dove cazzo l'hanno messo? Devi girare per tutte le stanze, Vol. Ma tu l'hai visto? Eh, sì. Certo. L'hai visto di nuovo? C'è, là recentemente. Stai perdendo roba per strada, Vol. No, cos'è? Io non lo trovo, ragazzi. Non lo so. Non voglio loccare niente. Quindi il tuo trattore là? Ah, eccolo là. Vaffanculo. Ma vaffanculo. Cioè mi sta prendendo il culo, ragazzi. Sto rischiando. Sto rischiando. Dai! Yeah! No va! Ahahahah! 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 Che io non trovo un'alzare! Ahahahah! Persona schifosa, proprio. Ahahahah! Si sa. Cioè, che cosa si studia in questa scuola? Si studia Cthulhu, sostanzialmente. È la razza antica, a quanto pare. Cthulhu non si può sentire, io te lo dico. Cthulhu si chiama, cosa vuoi? Si chiama così? Cthulhu, 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 è uguale. Cos'è? Ma tu le stai mettendo delle trappole ogni tanto, oppure proprio? Io ora le sto mettendo una ragazza, un cazzo. Non trovo più il mio altare. Ah, in alto a sinistra ti dice che cosa fanno le trappole. Eh, Loc... Dove cazzo è il mio altare? È trasportato. Ti ho mandato, ti ho mandato un regalo, dovrebbe arrivare fra poco. Questo regalo, che mandi i regali, dai. Ti ho mandato un regalo, Volla, in arrivo. Non ti preoccupare. Con tutto l'affetto. Ma vaffanculo, pezzo di merda. Come si chiamava questa di qua? Che cosa? Ma io non so neanche i nomi, io ho letto solo quello che... Uh, 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 stai seminando cose. Questa è tua, questo anche. Qua non si manda... Ah, con shift corri. Ah, vaffanculo! Ma pensavo che si potesse fare lo spook solo quando si hanno le sfere rosse? No, basta che lo vedi. Ah, vaffanculo! Io vi ho convinto, ti avrei potuto fare cento volte e vorrei fare spaventare. Quindi ho fatto... Ah, perché mi vedevi? Basta che mi vedi e lo puoi fare. Ho vinto io! No, io pensavo che dovessi avere una sfera sull'altare almeno, e mi si caricasse una barra e lì ti potevo fare. No, no, ce l'hai sotto la barra. E' il tuo teschio! E l'altro va benissimo. Qua Twitch ancora mi dice Live Dead by Daylight. Questa è bella. Questa è bella. Che cos'è bella? Eh, non ti preoccupare. Sto furgando un'intera stanza proprio. Tadadà! Niente casse. Ah, ci sono i casse. Oh, ho visto una... Vedo un altare qui. Lasciamo questa porta aperta, così Vol può entrare tranquillamente. Non vorremmo mai che non riesce ad entrare, signor Volver. Tu 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 tu. Ahahahah! Ah! Ahahahah! Ahahahah! Potete dirlo nei commenti. Stavo leggendo un libro. Chiunque potrà rivedere questa parte. Stavo letteralmente leggendo un libro. Proprio... Assolutamente. Ahahahah! Ah, mi sono fottuto da solo. Nooo! Ahahahahahah! Ahahahah! Non è che non c'è la corna! Tornoso! Vibro. Wow! Ho tirato una palla di fuoco così a random. Va bene. Mancato, ovviamente. Io che avevo il rosso e il blu. Ah, lo. Oh. Che dio... No, ma. Cioè, seriamente? Mi si... Vabbè. Ma magari tornerà... Tornerà a mio vantaggio. Abbiamo assistito a un piccolo bug. Ok. Mi sono chiuso dentro una stanza, praticamente. Non l'ho neanche fatta apposta. Mi piace la verità. Ora, sarebbe bellissimo se qui ci fosse il mio altare. Yeah! Merda. Sei cascato in una trappola, probabilmente. No. Mi sono cascato io. Affanculo! Che te ridi? Famaccio. Dove sei? Dove sei, Vol? Vol. Porca put... Come cacchio hai fatto? Non si sa, non te lo dirò mai. Valordo! Devi morire pazzo. Infamaccio. Valordo! Ho vinto... No, ha vinto Volsciente. Valordo! Questa è stata la partita più silenziosa che i nostri iscritti abbiano mai visto. Ti rendi conto? È bello che siamo uno a uno soltanto, eh? Non ti prende, ragazzi. Quando cominci a concentrare, a capire un po'. Ti prende, ti prende. Ti prende, ti prende. Assurdo. Vai, vai. Un altro giro? Sì, eh, volentieri. Perché poi quando cominci a non essere... Cioè, capire un po' quello che è poco, eh? Perché ancora ce ne vuole. Lì... Quella Fireball ti è piaciuta alla fine, eh? Sì, infamaccio, maledetto. Ti prende, ti prende, ti prende. Ti prende, ti prende. Vai, vai, invita. A questo punto ho cominciato a zeccare un po' con gli altari. Ho avuto un po' di culo con gli altarini. Ma poi mette gli altari vicini apposta, boh, verso la fine. Ogni tanto appaiono vicini. Sì, sì, Daniele, lo so. Devo cercare di farlo, però... Ti faccio a dirsi che a farsi. Ah, c'è pure il tuo punteggio sopra, si riesce a vedere? Ma sì, non eri ancora accorto. Guarda, 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 guarda. Minchia, vol, bravo. Ma va! Oh, ok. Ma va! Ma va! Ma sono un imbecille! Cado nelle mie stesse trappole! Ma dai! Concordo? Io non è che... Non si dica mai. Oddio, sto perdendo punti. Pure io. Ok. Ok. Basta, cagate. Basta, stupidate. Perché qua... Eh? Non andiamo d'accordo così, ragazzi. Assolutamente no. Ok. Sei proprio un infame vol. Eh, ti è piaciuto, no? Eh, io ho messo in vocato la bestia per tenere. Va, lordo. Non ti sistemo io. Cos'è sta roba? Ah, ah, già è vero che mi casco nelle mie stesse trappole perché sono furbo. No? No, cazzo sono qua. Ah, stardo! Via, 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 via! Come? Come? Tu non hai idea del culo che hai, Paul. Ma no, ma tu non hai idea. Hai aperto la porta poco fa. Che cazzo. Sì? E cosa? Guarda una botta. Che cazzo è sta cosa? Guardi culo che c'hai! Mi hai missato per caso? Ovviamente, io sempre ti misso. Ma va! Io no! Io ti becco invece! Mezzo di merda! Ah! Quanto posso essere infame, eh? Tanto! Tantissimo. Ah, dove cazzo è qua? Yeah! Rimontiamo! Rimontone, ragazzi! Rimontone! E... ... Ah, fffac... Bastardo! Odioso. Trovassi un cazzo di orb Uno, no, dico tanto Io non trovo mai orb Questo è un altro Ah no, sono le piante, ok, sto cercando di capire cosa che faceva rumore E che cazzo Affanculo Minchia, fuori dalla scuola mi hai sparato Non ho parole Bravo Finita, vaffanculo, ero messo alla prova E vince Il bonus a carecco, dammi il bonus a me Il migliore, il migliore, il migliore, signore, signore Signori, signori Yeah, vai Offri tu, eh Ragazzi Dai a 100 mi piace Lascio vincere voi Merda E Vai Non television Grazie a tutti